Un biennio di alta formazione post-diploma per imparare l'arte dei magistri kumacini in chiave 4.0, ospitato proprio nella sede della Olsim, storica cementeria di Merone. L'ITS Academy, ossia l'Istituto Tecnologico Superiore, formerà futuri tecnici di cantiere che conoscano a pieno le nuove tecnologie legate all'edilizia e al settore delle costruzioni. L'iniziativa nasce da un'idea di cometa e mette insieme le realtà del settore con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Como e appunto Olsim. Oggi la presentazione del progetto durante il convegno UNESCO-UNEVOC a tema costruzioni e ospitalità. Vogliamo aiutare l'evoluzione di questo territorio ripartendo dalla storia dei magistri kumacini mirabilmente raccontata dai ragazzi dell'IAT Academy, grazie ad Ance, ad Olsim che ha dato la disponibilità di ospitare questo nuovo progetto e quindi con Ance speriamo di poter partire quanto prima con questa nuova iniziativa per i giovani e per il territorio. L'ITS che avrà appunto sede nella Olsim a Merone potrebbe essere avviato già dal prossimo anno scolastico o al più tardi dal settembre 2025, ha spiegato Mele.